Via Libera al PRS 2021-2025, il piano regionale di sviluppo è stato approvato con i voti della maggioranza, contrarie le opposizioni. Pinocchio Street Festival a Collodi a fine agosto. La manifestazione dedicata al burattino più famoso del mondo è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Buonasera, ben trovati a Monitor Consiglio. Nella sua ultima seduta, prima della pausa estiva, il Consiglio della Toscana ha approvato il piano regionale di sviluppo 2021-2025. Il piano è stato approvato con 23 voti a favore, quelli di PD e Italia Viva, e 15 contrari, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Sentiamo le interviste a partire da quella al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Sono molto contento di come il piano regionale di sviluppo ha vissuto il suo dibattito, il confronto anche con accettazioni di emendamenti da parte della maggioranza, di quelli che sono emendamenti dell'opposizione e di un esito che rimane un punto di riferimento per, a metà legislatura, il proseguio di questa legislatura regionale. Il piano regionale di sviluppo possiamo dire, innanzitutto, che è il piano regionale di sviluppo della Toscana diffusa, perché viene codificato il concetto della Toscana diffusa intesa come somma delle aree interne, da un punto di vista normativo, e delle aree montane, ma contemporaneamente con tutte le gradazioni che queste hanno. Questa codificazione servirà per impostare progetti, acquisire finanziamenti a questi progetti, creare associazioni fra comuni che possano valorizzare aree come il Casentino, la Lunigiana, la Garfagnana, la Maremma, la Valdichiana, che possono avere un livello di omogeneità su progetti che va oltre quello che è il livello delle province o quello che è il livello, diciamo, di ambiti che vengono istituzionalmente richiamati. La Toscana diffusa significa servizi, significa infrastrutture, significa supporto ai comuni, anche con agevolazioni alle persone che andranno a viverci. Secondo luogo, infrastrutture, modernizzazione e innovazione. E devo dire che è proprio bello che venga approvato il piano regionale di sviluppo nel giorno in cui una storica infrastruttura fondamentale non solo per la Toscana ma anche per l'Italia, va alla concreta operatività. Stamani avere la fresa che dal nome Iris penetra nel terreno di Firenze per il tunnel di 7 km che ci darà il passante di alta velocità in qualche modo è il simbolo di un lavoro che stiamo facendo, non solo sulle grandi opere come l'autostrada e la terza corsia ma anche su quello che è il contesto delle strade regionali con un grande impegno nella regione. Pensate alla 429, la strada che va da Empoli a Poggibonsi per la Valdezza che proprio sta andando bene avanti nell'otto di completamento, quello da Castelfiorentino a Certaldo. Oppure pensate all'inizio della 426, partirà ai giorni quello che è l'abbrivio dall'uscita della FIPILI di Samniato fino a quello che è lo sviluppo fino a Montecatini nella Val di Nievole. Ma è stato un piano regionale di sviluppo in cui si mette la parola chiara sulla Costituzione di Toscana Strade ovvero su quella società di gestione che sarà dedita con professionalità, competenze al potenziamento della FIPILI attraverso la creazione di corsia d'emergenza e di, dove è possibile, la terza corsia. E sarà il piano regionale di sviluppo che avvalora una serie di servizi come gli asili nido gratis che perseguiremo, il reddito di cittadinanza per le donne vittime di violenza, il bonus cultura, il sostegno alle politiche verso i fragili e le disabilità, così come verso i giovani, anche nella loro pratica sportiva, penso appunto coloro che frequenteranno le scuole di avviamento alle singole discipline sportive. Ma è il piano regionale di sviluppo del grande sostegno alle imprese. 530 milioni ricavati dai fondi europei, il doppio dell'altro settennato, perché varranno dal 2021 al 2027 e supporteranno un'economia toscana particolarmente vitale. Il tutto all'insegna di una sostenibilità ambientale, data su tutti gli interventi che abbiamo previsto per la difesa del suolo, per l'alleggerimento della situazione che i cambiamenti climatici determinano. E questa sostenibilità ambientale si imporrà sul sostentamento alla mobilità sostenibile, penso alle linee di tramvia che completano l'area metropolitana fiorentina, ma penso anche a quello che può essere proprio il supporto al TPL, tanto all'attenzione in questi giorni. Penso a una possibilità che le città potranno avere attraverso le aree integrate urbane e i capoluoghi di provincia che potranno vivere una situazione in cui si integrano servizi, infrastrutture, possibilità di aiuto ai più deboli con uno sviluppo che anche sul piano culturale può contagiare quelle che sono realizzazioni tipo gli uffizi diffusi che si stanno su tutto il territorio portando avanti da Siena, da Rezzo, da quello che è il territorio della provincia di Firenze, a Livorno, a Pisa, Massacarrana, Grosseto. Un sostegno forte di Italia Viva ha un documento di programmazione regionale più importante. La nostra battaglia vinta è quella di fare in modo che nelle aree rurali possano arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture e che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro punta sull'economia diffusa che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati ne fanno parte in maniera integrante della ripartizione equa dei risorsi comunitari al rispetto a quelle del PNRR ma allo stesso modo la possibilità di finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture e miglioramenti rispetto alla proposta ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali quindi una risposta importante che ci ha visto convintamente sostenere questa manovra. Allora non ho fatto ancora il conto perché non siamo usciti dall'aula siamo contenti perché ne hanno approvati diversi ne hanno approvati diversi ma soprattutto perché al di là dell'emendamento approvato credo negli ultimi tre giorni si siano confrontate in aula sul piano regionale di sviluppo due visioni di Toscana competitive e alternative questo mi fa piacere non c'è stata una discussione sterile non è stata una discussione mai sopra le righe mai alzando i toni mai offensiva mai sgradevole centrodestra e centrosinistra hanno mostrato due visioni differenti di regione toscana e si sono confrontate tra loro personalmente posso parlare dei miei io ho avuto mi è stato approvato l'emendamento che introduce l'impatto generazionale che per me è un tema importantissimo ovvero che in maniera graduale a partire da oggi la regione toscana ogni volta che emanerà una legge o prenderà un provvedimento dovrà considerare che impatto può avere questo provvedimento questa legge sulle future generazioni cioè quando si va a fare una legge oggi dovremo saremo costretti a prendere anche in considerazione a valutare l'impatto che questa legge avrà in futuro su chi oggi è poco più di un adolescente e questo significa pensare al futuro oltre ad aver inserito nel PRS per quanto mi riguarda il no assoluto alla produzione di cibo sintetico in Toscana poi so che altri colleghi ne hanno avuti diversi approvati quindi è stato sicuramente un bel dibattito l'unico neo fatemelo dire il piano regionale di sviluppo 2021-2025 lo discutiamo a luglio del 2023 questo è il grande problema della legislatura Giani che le scadenze sono lì per far figura perché non se ne rispetta una questo è un piano regionale di sviluppo cioè il programma di sviluppo della Toscana Giani lo porta in aula due anni e mezzo dopo essersi insediato come governatore questo un pochino di ritardo quei 32 mesi di ritardo un pochino pesano questa mattina in aula io credo che sia accaduta una vicenda che ha dell'incredibile la Lega aveva presentato e ha presentato emendamenti al piano di sviluppo regionale tesi al sostegno economico finanziario a contributi anche ordinari strutturali e non solo straordinari a vantaggio da una parte del Carnevale di Via Reggio dall'altra a vantaggio della Fondazione Festival Pucciniano e comunque di tutti quegli enti legati al nome di Giacomo Puccini che ovviamente gestiscono gli immobili pucciniani e sviluppano quella che è l'immagine del maestro l'opera del maestro durante l'anno la maggioranza il centro-sinistra il PD ci ha bocciato l'emendamento in modo incredibile non accogliendo un'istanza che io credo assolutamente giustificata non solo nel sostegno a due fondazioni importanti come la Fondazione Carnevale di Via Reggio e la Fondazione Festival Pucciniano che hanno necessità come richiedono da tempo di avere sostegni strutturali e programmati ma soprattutto anche in considerazione del fatto che il prossimo anno celebreremo i 100 anni della morte di Giacomo Puccini nel 2026 avremo i 100 anni della prima di Turandot c'è un comitato per le celebrazioni pucciniane che è costituito con legge dello Stato e che ha a disposizione 9 milioni e mezzo da spendere proprio per celebrare Giacomo Puccini e la giunta Gianni e la maggioranza Gianni e il PD e il centro-sinistra non trovano spazio all'interno del piano regionale di sviluppo che parla di tutto e del contrario di tutto per dire qualcosa e sostenere Giacomo Puccini per sostenere questi enti culturali che sono così importanti io credo che si faccia in questo modo davvero un cattivo servizio a punti di riferimento in particolar modo al nome di Giacomo Puccini che porta il nome della Toscana nel mondo come simbolo di cultura da sempre in consiglio regionale è arrivata anche la notizia delle minori risorse a disposizione per il PNRR 16 miliardi a livello nazionale la Toscana ha detto il presidente Gianni perderà un miliardo sentiamo il commento della consigliera 5 Stelle Irene Galletti questa è la dimostrazione che tra gli impegni che dovremmo prefiggerci per settembre e che andranno per tutto il prossimo anno sarà anche lavorare per le elezioni europee per le amministrative perché la notizia che arriva oggi dell'incapacità di questo governo del governo Meloni di portare avanti per 16 milioni di euro dei progetti che servivano anche per risanare un tessuto urbano che si è lacerato nel corso degli anni diventerà fondamentale il Movimento 5 Stelle si è battuto insieme a Giuseppe Conte per tutti i miliardi del PNRR che sono arrivati all'Italia che questo governo non è stato in grado di spendere e questa è una cosa gravissima che peserà molto anche su questi documenti che stiamo votando adesso in questi minuti nell'aula ci sono delle pagine del PRS e anche del DEF che sono già vecchie passaggi che saranno già tagliati ed è vergognoso sentir dire da questo governo che in qualche modo copriranno quei soldi che non arriveranno perché sappiamo bene che le condizioni in questo momento dello Stato non lo permetteranno significa che i nostri territori anche quelli amministrati dal centro-destra che si vanta di saper governare verranno penalizzati da dei tagli di progetti come quelli del Pinqua che in questo momento erano già in dirittura di partenza se non addirittura avviati è una responsabilità gravissima e io credo che il Presidente Gianni farà bene a chiedere chiarimenti a questo governo e anche alla parte politica con cui per certi aspetti hanno condiviso e stanno condividendo in queste ore in questi momenti emendamenti e passaggi insieme c'è un'unica alternativa in Regione Toscana che è un fronte progressista che ha davvero a cuore gli interessi degli ultimi di questa Regione ed è il Movimento 5 Stelle è quello che all'interno di questa assemblea di questo dibattito è stato marginalizzato perché è l'ultimo che non ha interessi da spartire ma soltanto interessi quelli dei cittadini da portare avanti ecco perché per noi questo è un insuccesso non soltanto del Governo nazionale non soltanto di Fitto ma anche di questa Regione del governatore Eugenio Gianni che tante volte dice di ammirare i ministri che in questo momento stanno governando e non sono neanche del suo colore politico quindi avremo un settembre molto caldo e ci troverà in prima linea di nuovo a difendere i diritti degli ultimi Cambiamo decisamente argomento presentata in Consiglio regionale l'ottava edizione di Senza Fili Pinocchio Street Festival la manifestazione che si svolgerà con l'Odi dal 25 al 27 agosto tanti spettacoli di teatro musica e arte circense sentiamo Un'iniziativa bella un'iniziativa importante perché permette di raccontare le tante bellezze che ci sono a Collodi e questo è uno di quegli eventi che viene riconosciuto ben oltre la nostra Regione il nome di Pinocchio viene portato in tutto il mondo e questi spettacoli urbani riescono a far crescere anche a migliorare anche gli eventi e le iniziative che ci sono sul territorio quindi grazie a tutti per questa iniziativa e che sia dal 25 al 27 di agosto un momento bello e importante non solo per Collodi non solo per Pesce ma per l'intera Toscana musica 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 è tutto per questo appuntamento Monitor Consiglio torna a settembre dopo la pausa estiva dei lavori del Consiglio regionale vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata musica 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 musica